Musica Secondo incidente della giornata in via Busano a Rivara, questa sera giovedì 7 dicembre, poco prima delle 23. Un 29enne, residente a Rivara, ha perso il controllo della Renault Megane che stava guidando, che si è ribaltata adagiandosi su un fianco in mezzo alla carreggiata all'incrocio con via Breccia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Rivarolo Canavese e la croce rossa di Castellamonte. Dopo le prime cure il giovane è stato portato all'ospedale di Quarnier. Fortunatamente ha riportato solo lievi ferite. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.